Sei un manager particolarmente ambizioso, che non si accontenta e vuole essere certo di dare il meglio di sé ogni qualvolta si trova a parlare in pubblico, dal vivo o nei video? Ciao, sono Chiara, trainer e coach di Public Speaking. Ti alleno in italiano, in inglese o in tedesco, dal vivo o via web. Diverse sono le circostanze in cui come manager potresti desiderare di migliorare il tuo Public Speaking, ad esempio durante i kick-off meeting, meeting così importanti nei quali sei chiamato a entusiasmare il tuo team per raggiungere un determinato obiettivo, oppure potresti desiderare di capire come presentarti al meglio durante gli incontri di networking, oppure in occasione di colloqui di lavoro, oppure ancora davanti alla telecamera, se dovresti mai decidere di fare dei video oppure se già li stai facendo. Forse ora ti sarai chiedendo come posso aiutarti, offro dei corsi a delle piccole aule anche all'interno della tua azienda, nelle quali posso insegnare a te e al tuo team come presentarti al meglio in pubblico e davanti alla telecamera, oppure ti posso offrire delle sessioni individuali di coaching, anche via Skype, nelle quali insieme andremo a capire quali sono i tuoi punti di forza e quali sono i tuoi punti di miglioramento nell'ambito del Public Speaking. Tra i metodi che utilizzo c'è il metodo del Partenone, ho fatto anche un video specifico su questo, lo trovi su YouTube, sul mio canale, e il metodo del Partenone ti considera di preparare qualsiasi tipo di speech in 5 semplici step. E ai manager particolarmente ambiziosi che vogliono andare un passo oltre, gli insegno anche un metodo che si chiama TTI Success Insights, che viene utilizzato dagli più grandi multinazionali al mondo per migliorare le performance di vendita e di comunicazione all'interno dell'azienda. Ed è un metodo che ti permette di rendere il tuo stile di comunicazione flessibile, ovvero di capire come imparare a comunicare non per te stesso, ma veramente nel linguaggio e nello stile di comunicazione di chi ti sta ascoltando. Se sei curioso di capire come posso aiutarti a migliorare il tuo Public Speaking e il tuo Video Public Speaking, iscriviti ora al mio canale e continua a seguire i miei video. Vai su Amazon e acquista il mio libro Video Public Speaking e vai sul mio sito www.parlarechiaro.com e scarica ora la mini guida gratuita per la preparazione di una presentazione di successo. E se sei curioso di conoscermi scrivimi a infochiocciolaparlarechiaro.com e sarò lieta di regalarti una prima consulenza gratuita.